Inizieranno lunedì 15 febbraio diversi interventi di restauro e messa in sicurezza delle antiche mura cittadine nei pressi di via Porta Gaza. I lavori riguardano in primo luogo il tratto da via Domminzoni a via Mura San Vitale e consistono, tra l'altro, nella rimozione delle erbe infestanti, arbusti, alberi e nel consolidamento delle mura che presentano lesioni o cedimenti con la ricostruzione delle parti crollate. Una volta eseguito l'intervento strutturale di consolidamento, si potrà procedere al restauro delle parti decorative e della muratura attraverso impacchi di sostanze pulenti e trattamenti anticorrosivi. Tutti gli interventi saranno attuati nel rispetto degli elementi decorativi e strutturali con l'impiego di materiali idonei a garantirne la conservazione senza eliminare la patina del tempo. La conclusione dei lavori è prevista entro l'8 giugno prossimo. Anche la circolazione subirà delle modifiche. Per consentire lo svolgimento dei lavori sarà infatti istituito temporaneamente il divieto di sosta con zona rimozione per tutti i veicoli nell'area di vita parcheggio lato Mura Storiche in via Mura di Porta Gaza, che sarà di volta in volta interessata dall'occupazione del cantiere per un tratto di circa 40 metri.